Per quanto riguarda il canale, che per noi è uno degli obiettivi primari per la nostra presenza qui a SMAU, tendiamo sempre ad avere nuovi partner all'interno del nostro canale e nello stesso tempo offrire sempre delle novità sul nostro programma di certificazione che si chiama Select Partner Program. La novità di quest'anno primaria è soprattutto legata al discorso del training. Si chiama Academy ed è una serie di nuovi training che avremo a disposizione del canale, non tanto come abbiamo oggi training di certificazione di prodotto, ma soprattutto training che migliorano lo skill del canale.